Allora, io ho chiesto a Nicole, e noi non abbiamo idea di che cosa lei suonerà adesso, di sorprenderci. Lo scopo è che se ci sorprende stasera, magari la chiamiamo anche tutte le settimane a sorprenderci. Per cui, a te il palco. Nicole Picchioni! Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio